Si parla di bellezza, e beh, l'air fashion, l'air style is the VIP. Buonasera, Daniela. Buonasera, buonasera a tutti. Senti, so che sei appena tornata da un parto importantissimo. Chi abbiamo pettinato di così importante? Eh, abbiamo pettinato... C'è un top secret perché c'è un'esclusiva giornalistica, ma so che ha appena acconciato una grande star del mondo dello spettacolo. Daniela, qual è la particolarità di queste star? Queste star sono molto impegnative, però poi ti danno tante soddisfazioni. Danno soddisfazioni. La tua estate come sarà? All'insegna del... Del riposo. Del riposo. Sì, e poi del lavoro. Grazie, Daniela. Grazie. I style is the VIP. Grazie.